Affetto da autolesionismo volontario, il Partito Democratico torna ad impantanarsi. Sembra aver sortito questo effetto l'ultima mossa di un disperato Ernesto Magorno, che dopo essere uscito con le ossa rotte dall'Assemblea regionale di lunedì scorso, ha provato il tutto per tutto, proponendo ufficialmente la candidatura alla presidenza della regione di Massimo Canale, leader dei Cuperliani e suo sfidante nella corsa alla segreteria. Chiaro l'intento, giocare la carta del rinnovamento per far saltare le primarie in nome di un'unità difficilmente perseguibile. Mario Oliverio, uscito rafforzato all'ultima assemblea, ha ribadito anche questa mattina la sua intenzione di andare avanti. Non farò alcun passo indietro. Il presidente della provincia di Cosenza già intasca le 105 firme necessarie per correre alle primarie del prossimo 21 settembre. Ne ha raccolto addirittura 110 e il 23 luglio le depositerà come da regolamento. E tra i firmatari ci sono diversi esponenti renziani, tra questi anche qualche sindaco. Il consenso di Oliverio dunque è bipartisan, accolta con freddezza invece l'ipotesi canale, che a quanto pare non surriscalda i cuori degli stessi Cuperliani. L'area riconducibile a Massimo Canale si è ritrovata poche ore fa alla mezza terme. Scarna la partecipazione. Appena una ventina i delegati presenti, completamente assenti quelli di Cosenza e di Vibbo, segnali non certo positivi. Ernesto Magorno resta all'angolo e c'è chi già scommette sulle sue dimissioni, minacciate qualche giorno fa ma mai presentate. Di sicuro il Partito Democratico è nuovamente nel caos. sullo sfondo riemergono due figure, due candidati di superamento, Ernesto Carbone e Marco Minniti. Ma la strada sembra ormai tracciata all'Assemblea dei 300, che poco meno di una settimana fa ha votato per le primarie, unica via di uscita per evitare una nuova capo suvero e un'altra clamorosa figuraccia.